cos'è la permuta di immobili? cambia rarissimamente già viviamo una permuta di immobili qua nel nostro mercato locale a sassari perché? perché fondamentalmente un mercato interno ci scambiamo le case tra di noi esigenze tipologie metrature zone già questo accade però la permuta diretta spesso nella mia esperienza è molto rara bisogna trovare un acquirente a cui piace il nostro immobile un vendito e dall'altra parte viceversa un chi vende la casa deve trovare un acquirente che abbia una casa che anche quella va bene per quello che lui sta cercando un vero e proprio incastro di esigenze zona piano metratura tipologia questo va a collimarsi in quello che è una permuta non è una cosa assolutamente da escludersi perché rende il processo ovviamente molto più rapido e le esigenze delle parti coinvolte sono praticamente le stesse in termini di tempistica di consegna e questo fa sì che non solo fiscalmente come potrebbe considerare il vostro montaglio è un'operazione sicuramente più vantaggiosa ma fa sì che domani vendendo casa non devi andare più a cercare un'altra l'hai già trovata eccola qua viceversa per la per l'altra parte è una casistica molto rara ma non descludere la permuta tra immobile tipologie è un qualcosa che può essere fa parte si deve far parte sicuramente della strategia di vendita del tuo immobile oggi se l'idea è quella di fare un upgrade o un downgrade un appartamento più grande un appartamento più piccolo può cambiare zona per zona anche qui hai bisogno di un professionista immobiliare per capire poi determinate dinamiche e qua siamo a tua disposizione